è il momento di portare la guerra in casa degli arverni ciao a tutti ragazzi ben ritornati nel case illustrice bentornati alla nostra avventura su rom 2 total war emperor edition siamo in compagnia dello spartano doc e ricky magnus ciao ricky ciao strinus ciao ragazzi e siamo pronti per il nostro controattacco nei confronti degli arverni del popolo gallico del popolo barbaro che ha tolto la vita al nostro più grande eroe di sparta poli preconte ragazzi dobbiamo attuare davvero una manovra tenaglia una manovra epica di controattacco e adesso quindi ne parleremo subito senza perderci troppo in chiacchiere prima cosa che faremo al prossimo turno è subito controattaccare con i giganti di nome di fatto i grandi combattenti di genova andremo verso massalia la seconda cosa che faremo subito io e il grande ricky beh muoveremo teofilo grande generale che ricorderete abbiamo adottato e fatto entrare le nostre schiere perché è molto molto abile lo manderemo subito a octodorus ragazzi perché quelli sono i confini e qui ci sono gli assassini i carnix ululanti ovvero tutti quanti l'esercito ragazzi che ha appunto ucciso il valido poli per conte una volta arrivati qui ricky possiamo anche reclutare delle unità subito le unità di difesa quindi parleremo certamente di picchieri spartani ragazzi non più picchieri perieci e ne mettiamo subito a reclutamento la bellezza di tre unità perfetto ricky direi che sei d'accordo? direi che si è perfettamente così sono anche di rango unità 1 di esperienza dimmi pure no bisogna anche reclutare un esercito a cori ok perfetto altra mossa come dice ricky sempre tenere sotto controllo i confini ragazzi e ricordiamoci che qui abbiamo anche gli insubri che sono sempre in agguato io ragazzi non mi sono dimenticato quello che vi avevo detto voglio marciare contro uburzis la loro capitale sperando che sia rimasta poi di fatto solamente quella ma credo proprio di sì da quello che possiamo evincere e soggiogarli al nostro impero non conquisteremo le loro terre ma saranno i nostri schiavi questo è certo non perdiamoci in chiacchiere però creiamo subito delle forze nuove assolutamente sì diamo un'occhiata con ricky e vediamo di reclutare un degno erede un altro grande generale del nostro popolo spartano abbiamo scelto ragazzi come prossimo candidato a generale disponibile il nostro gelo nome davvero agghiacciante per il nostro grande comandante appunto effetti del comandante più 10% la probabilità di ferire agenti nemici per autodifese più uno allo zelo nulla di meglio ragazzi perderemo due geronti per questo ma almeno è delle nostre assolutamente famiglie reali perfetto possiamo reclutarlo e lo mandiamo direttamente all'interno della città dobbiamo far sentire la nostra presenza all'interno appunto del nostro grande impero ragazzi e fin qui tutto a posto è il momento adesso ragazzi di occuparsi del sud non mi sono certamente dimenticato molti di voi mi hanno detto Strenus ma quanto tieni fermo l'esercito al sud? beh ragazzi con tutte le riforme che abbiamo fatto finalmente come potete notare siamo a 63% di felicità e 14% punti crescita e finalmente è il momento di muovere i figli di Rea è da una vita che sono fermi qui ed è il momento di viaggiare via terra velocissimi con addirittura marcia forzata verso il nord ragazzi prima tappa ma anche Roma possiamo mandarle direttamente a Roma Roma non ci arriveranno anzi assolutamente sì assolutamente sì ragazzi il Ricchi sa bene quel che dice e infatti anzi Ricchi possiamo a questo punto mandarli già verso Velatri perfetto molto bene ragazzi avete notato che stiamo muovendo anche tutti gli eserciti rimanenti è una guerra ormai totale chiaramente speriamo che gli insubri in questo istante non ci attacchino perché saremmo davvero in difficoltà dobbiamo occuparci adesso degli arverni 7 punti di crescita ancora al sud grazie anche all'influenza dei nostri grandi agenti altra cosa che dobbiamo fare ragazzi beh ricordiamoci anche della solita pace di ritorna questa flotta e presto ragazzi mi avete detto anche estremus fai qualche battaglia navale appena dichiareremo guerra di nuovo all'insubri beh ce ne occuperemo subito con le nostre grandi vendetta di Atlante la nostra bellissima flotta raga allora stiamo avanzando davvero serrati davvero arroganti perché voglio vendicare Poli per Conte e non sono qui a cincischiare quindi vediamo subito che abbiamo anche un'avanzata di 8 punti per quello che concerne i boia di Medusa e ragazzi per ora vanno bene qui possiamo spostarlo assolutamente sì ma per ora non serve perché abbiamo anche questa flotta che si è distaccata dopo la seconda sconfitta di Genua ed è pericoloso muovere subito questi uomini all'ali e sarebbe in difficoltà per quanto ormai autonoma adesso ragazzi dobbiamo controllare se possiamo reclutare in altre zone perché dobbiamo vedere appunto di organizzarci al meglio quindi possiamo notare che a Genua per adesso attenzione non è possibile assumere perché siamo in marcia forzata dal turno precedente vi ricorderete dai gameplay appunto precedenti se non li avete visti li trovate qui nella scheda in alto a destra ragazzi ma adesso una cosa più importante abbiamo altre 2000 drachme d'oro e proprio a proposito di Alalia ragazzi io metterai la parola fine a tutti i disordini che ci ha creato vediamo un pochino esatto creando attenzione un altare di Poseidone sul consiglio del grande comandante Phobos che saluto ancora una volta perché ragazzi questo altare ricorderete che abbiamo distrutto precedentemente tutti quanti i campi ebbene da questo grande altare solo un pazzo prenderebbe la via del mare senza la benedizione di Poseidone e Dio degli Abissi ci darà 3 al cibo quindi un recupero e altri più 2 all'ordine pubblico senza considerare anche scafi di livello 1 non perdiamoci comunque in chiacchiere quindi abbiamo speso anche questi ultimi soldi ricordiamoci però che la guerra costa e siamo assolutamente a posto ragazzi diamo chiaramente una piccola occhiata e uno sguardo a tutte le altre nostre forze e a tutti i bonus che dobbiamo assegnare per esempio attenzione addirittura al generale e anche all'esercito che faremo subito ragazzi quindi scegliamo subito assieme i bonus atti per il nostro grande crisippo per quanto ribadisca non sia delle famiglie reali soldato ragazzi un bravo soldato sa molto del mondo e soprattutto il posto che lui occupa perché questo bonus ragazzi perché è l'unico che non dà gravitas quindi è davvero una cosa molto abile perché non ci mette in difficoltà dal punto di vista politico per quanto concerne invece ragazzi tutte quante i bonus che appunto riguardano l'esercito di crisippo ragazzi sceglieremo formidabili lancieri una lancia a molti utilizzi il maestro li conosce tutti più 5% di danni causati dall'armi di tutte le unità con lancia siamo spartani ragazzi non siamo certamente lanciatori per quello quindi che riguarda questo esercito ragazzi abbiamo fatto tutto poi abbiamo le chimere distruttici allora attenzione in questo caso siamo a segestica il panorama politico qui si è ben complicato ricorderete certamente siamo circondati da tutti i territori degli RDA con cui non siamo in guerra ma sono in guerra invece con gli RDA ricorderete certamente ragazzi i boi questo popolo appunto il nostro alleato davvero circondato da tutte le parti abbiamo stipulato una pace con Istros in realtà con i Breuci e per ora ci conviene appunto ottenere questo nostro esercito ben rifornito in queste zone perché se no perderemmo anche per ordine pubblico questa città per quanto ci costi davvero tanto ragazzi intanto lasciamo rifocillare tutti questi uomini perché sapete bene che si trovano dietro le linee nemiche abbiamo fatto praticamente tutto continuiamo a dare uno sguardo assieme a tutto quello che concerne sempre quindi le nostre ultime forze siamo arrivati ai fili di rea che si stanno incamminando come abbiamo visto i boia di medusa siamo a posto i fuochi di efesto questi ragazzi dovranno bruciare letteralmente i barbari la vendetta di atlante si trova al sud assolutamente tranquilla e poi abbiamo visto che presto appunto attaccheranno anche gli insubri mentre qui ragazzi cosa abbiamo abbiamo da potenziare anche la nostra bella flotta il nostro ammiraglio per essere più precisi e anche dare lui un aiutante scegliamo subito con ricky e poi passiamo all'azione ragazzi dobbiamo vendicare poli per conte bene ragazzi per quanto concerne le abilità del nostro ammiraglio eumeo sceglieremo guerriero ci darà più uno lo zelo più uno la gravitas per turno considerando il fatto che gli effetti del comandante sono praticamente molto molto stabili e molto appunto validi 40 anni per il nostro eumeo mentre invece per quanto concerne i suoi aiutanti abbiamo scelto ragazzi cittarista canto in onore di total war lol chiaramente tra parentesi più 2% il morale per tutte le unità davvero un ottimo aiutante perfetto ragazzi a questo punto abbiamo fatto praticamente tutto quello che era in nostra possibilità ma prima di lasciarci tutti quanti gli agenti ragazzi allora quelli del sud li lasciamo stare ma le spie mi avete detto strenus mi raccomando le spie usale nel modo migliore perché qui la guerra è su tutti i fronti e sono pienamente d'accordo con voi per quanto concerne ragazzi i breuci per adesso è meglio lasciarli stare dato che abbiamo fatto subito la pace e non siamo in condizione tale di poterci proteggere ad est quindi cosa faremo ragazzi io quasi quasi Ricky farei ripiegare la nostra spia da queste parti la farei andare verso i territori che più e appunto ci interessano perfetto è un'ottima idea così vediamo anche la capitale come come gestita se ha un'armata anche all'interno esattamente quindi ragazzi andiamo a spiare gli insubri che devono essere piegati troppo pericolosi li abbiamo già piegati due volte in realtà ma devono diventare nostri schiavi non c'è via di scampo per questa cosa quindi il percorso più breve l'ha tracciato da sola la nostra spia Nike assolutamente validissima ecco che si incammina su per le alpi davvero aggressiva ragazzi andiamo all'Isistrata invece eccola qua l'altra nostra spia si trova nel posto giusto al momento giusto qui ragazzi abbiamo la doppia possibilità colpire i Carnix ululanti e fare chiaramente cercare di avvelenare le loro scorte oppure la città Massalia ma perché colpire un semplice esercito ragazzi quando possiamo privarli di una potente città che gli dà 1411 Dracme d'oro a turno non è concepibile quindi Ricky la nostra soluzione è assolutamente questa un attacco alla loro guarnigione sicuramente alla loro guarnigione o a una struttura della città stessa io preferirei i soldati Ricky quindi attacchiamo e vediamo di colpire questi sabotaggio militare logicamente l'assassino ragazzi non credo abbia poi tanto senso per quanto il loro generale possa essere abile anche perché il generale ragazzi non è abile si vede subito da questa icona quindi procediamo col sabotaggio militare come stavamo dicendo ragazzi sabotaggio militare perfetto abbiamo la possibilità 70% fornitura di veleno danni di poco conto a tutte quante le unità intercetta gli ordini ragazzi possiamo appunto rivelare un esercito o un insediamento o un agente non ci interessa o la salmeria togliamo tutti i bonus ai soldati avversari ragazzi fornitura di veleno Ricky speriamo davvero di riuscire in questo atto dobbiamo riuscirci fornitura di veleno per noi attenzione ragazzi chiaramente la nostra spia si avvicina cerca di entrare all'interno della città avvelena tutti sabotaggio militare riuscito ragazzi la nostra grande spia ce l'ha fatta grandissima logicamente lisistrata bravissima ed è riuscita chiaramente ad avvelenare gran parte addirittura già alcuni erano messi parecchio male probabilmente sono soldati che devono rifocillarsi sono ragazzi appunto avvelenati e stanno subendo danni abbiamo fatto tutto quello che potevamo Ricky? credo di sì l'unico agente che è a nord a Coria credo che possa livellare vediamo un pochino esattamente e bravo Ricky Eufro può livellare quindi adesso ragazzi sceglieremo anche per Eufro i suoi bonus e poi ripeto si passa al contrattacco dobbiamo anche vedere cosa faranno chiaramente tutte le altre fazioni nel passaggio turno sarà qualcosa di davvero critico consigliere ragazzi consigliere livello 2 per essere precisi spesso mi capita di rimangiarmi le parole ma mai il silenzio assassino più 8% amministrazione civile più 4% pressione fiscale e cultura più 2 ragazzi davvero interessante questa manovra soprattutto perché potremo mandare poi la nostra Eufro anche in territorio Ricky se sei d'accordo nella Pannonia quando appunto sarà necessario esattamente per convertirla o anche nella zona della Francia di Marsalio magari te Ricky chiaramente sei già uno spartano arrogante e pensi di prendere tutto facilmente ed è questo lo spirito ragazzi quindi adesso ci impegneremo al massimo abbiamo finito qualsiasi cosa non attacco nessuno dal punto di vista chiaramente diplomatico anzi dalla diplomazia possiamo darci un'occhiata ragazzi per quanto non abbiamo soldi ma un'occhiatina fa sempre bene ragazzi il nostro occhio è caduto sulla Confederazione Celtica alcuni di voi me l'avevano già consigliato dicendo Strenus cerca di farti sempre più amici i nemici dei tuoi nemici quindi perfetto ragazzi cerchiamo appunto di ottenere qualche patto potremmo cercare di intavolare anche un trattato commerciale con questa Confederazione Celtica che è nemica appunto degli RDA quindi ragazzi vediamo subito di avviare la diplomazia sperando anche in una loro diciamo benevolenza nei nostri confronti anche se ci vedono piuttosto male meno 51 neanche esagerato trattati interrotti con gli RDA chiaramente apprezzano io ragazzi proverei a offrire un accordo commerciale pagando quindi cercando di strappare appunto questa sorta di trattato con un pagamento di 600 che è tutto quello che abbiamo praticamente quindi ragazzi dobbiamo davvero sperare che questo vada bene non va bene assolutamente cerchiamo di ammorbidirli un po' non so un transito militare ragazzi o un dono potremmo fare anche un dono a questo punto un transito militare non me la sento per quanto siano molto lontani e vediamo un pochino un patto di un'aggressione se no pagato vediamo un po' ragazzi allora vediamo se accetteranno questa assolutamente non gli interessa quindi io direi di fare un omaggio di pochi spicci assolutamente di 100 di 100 proprio per rimanere sul simbolico un gesto simbolico 100 monete d'oro per il nostro barbuto amico perfetto ragazzi quindi proponiamo l'offerta logicamente l'accettano di buon grado si farà sicuramente un nuovo elmo col suo battacchio perfetto siamo davvero contenti anzi lui un pochino meno anche se appunto sicuramente nei prossimi turni diciamo la sua versione ai nostri confronti diminuirà basta parlare ragazzi abbiamo fatto tanto speriamo basti e chiaramente adesso ragazzi è il momento di procedere passaggio turno davvero da questo passaggio dipenderanno tante cose 148 avanti cristo estate ragazzi siamo messi che sono successe tante cose adesso le guarderemo assieme innanzitutto una spia avversaria ha fatto anzi un eroe avversario esmeria ha fatto un attacco ad octodrus esattamente la nostra guarnigione l'ha attaccata e ha fatto davvero molti morti ma nulla è appunto di eccezionale parola di uno schiavo ragazzi questa è la missione l'abbiamo compiuta bene più 30 geronti perfetto dopo aver pagato profumatamente per ritorno sicuro della ragazza venne stabilito che sapeva troppo doveva morire comunque ragazzi influenza 30 geronti quindi abbiamo fatto benissimo andiamo avanti con i messaggi 20 taxi magulo immortale è stato lui ad attaccarci di fatto eccolo qua infatti un eroe è stato non era la spia che è questa è assolutamente avvistato a octodrus molto grave questa cosa la nostra spia deve assolutamente intervenire anche niche probabilmente costruita all'ocanda anoreia e tempio di zeus a coria o coiria che dir si voglia e un fronobildonna 4 all'esperienza culturale molto bene questi qua sono tutti quanti i punti che abbiamo assegnato lei rapporto del furiere picchieri spartani ragazzi finalmente davvero nuove unità per noi allora attenzione quello che abbiamo visto è qualcosa di terribile allora ragazzi abbiamo visto che i carnix ululanti stanno tornando proprio verso massalia mentre l'esercito che si trova dentro massalia se l'è svignata proprio profumatamente come si suol dire a questo punto Ioriki dobbiamo pensare davvero alla prossima mossa perché qui non possiamo sbagliare un attacco frontale nei confronti adesso del ritorno di questo esercito ancora malmesso potrebbe essere una buona soluzione ma forse no quindi dobbiamo chiaramente valutare un pochino le nostre mosse ragazzi ci becchiamo tra un secondo dunque ragazzi abbiamo pensato bene alla soluzione per questa nostra problematica è davvero una situazione spinosa lo capirete anche da soli il concetto qual è che i carnix solulanti si andrebbero a sommare logicamente alla guarnigione di massalia e non possiamo affrontarli hanno eliminato uno dei più grandi eserciti che avevamo a disposizione non ce la faremmo mai in questo caso quindi la prima cosa che faremo ragazzi è seragliarci meglio prepararci meglio per lo scontro finale quindi tolgo subito la marcia forzata al nostro grande esercito al nostro grandissimo eccolo qua crisippo e andiamo a reclutare altre unità quindi andiamo a potenziare ulteriormente l'esercito che poi potrà davvero fare un attacco finale andiamo a reclutare altri due picchieri spartani per quanto vediamo un po' attenzione assolutamente sì perché di picchieri poi ragazzi in questo esercito non ne abbiamo a sufficienza quindi andiamo a mettere su un paio di picchieri spartani eccoli qua perfetto e questo esercito è fullato ragazzi prontissimo alla battaglia anzi ci stiamo ricaricando anche tutte quante le nostre cavallerie fidatevi dello strenus non possiamo attaccare adesso dobbiamo aspettare e attendere il momento giusto i nemici per ora hanno superiorità ad attacco un'altra cosa che dobbiamo fare subito ragazzi è continuare a far avanzare il nostro grande epiteto che è sempre stato al sud e cerchiamo di farlo arrivare a octodorus per poi fargli switchare tutte quante le sue unità davvero veloce il nostro epiteto guardate ragazzi quanti punti di movimento può spendere molto molto bene perché tutti questi uomini compresi molti arcieri che tanto vi piacciono e tanto mi piacciono potranno essere poi di fatto nel prossimo turno riversati all'interno della città di octodorus stessa mentre sempre nella città di octodorus possiamo notare che abbiamo davvero tanti picchieri ma abbiamo bisogno anche di fanteria normale davvero la colonna portante dei nostri eserciti spartani ovvero gli opliti spartani esatto che in quel loro muro fermano qualsiasi cosa esattamente che se abbiamo visto ragazzi i fedeli al giuramento davanti al muro di opliti possono passare perché sono qualcosa di fuori dalle grazie di qualsivoglia appunto divinità agricollenica mentre invece da questa parte logicamente non possiamo reclutare perché ci troviamo sempre diciamo in campo della regione di rezia e noricum allora ci possiamo spostare adesso ricchi con 2600 monete d'oro alla nostra spia torniamo alla spia ragazzi allora cosa possiamo fare qui molti diranno bestrenus attacca chiaramente gli arverni non ha molto senso secondo me ragazzi perché se dovessimo attaccare questo appunto contingente entrerebbe in città il turno dopo e si ricaricherebbe di unità quindi non serve quasi a nulla la cosa che a me dà fastidio sono queste unità le altre unità di spionaggio quindi cercheremo di colpire queste per farlo avanzeremo da questa parte dove abbiamo visto precedentemente nel passaggio turno che si è ritirato l'altro esercito sempre degli arverni quindi faremo un giro un po' diciamo non proprio di consuetudine anche per vedere che cos'è rimasto infatti ragazzi notiamo subito che ci sono i difensori delle colline che ben camperavano sempre questi territori formati da tutti i fedeli del giuramento ragazzi davvero eserciti maestosi ed arroganti per questi uomini e a questo punto di che posso dare assolutamente l'attacco nei confronti di Taksimagulo una volta per tutte vorrei assassinarlo col 34% di possibilità chiaramente ragazzi lo farà sicuramente i turni dopo per rimanere sempre ragazzi in ordine di spie è il momento di muovere anche Nike a questo punto la mandiamo sì verso l'insubri ma comunque verso il territorio dei nostri nemici arverni dobbiamo concentrare tutte le forze dell'impero verso di loro sono un nemico ostico sono davvero potenti sul campo non possiamo risparmiarci quindi anche la nostra Nike può fare anche un bellissimo ramo di spie in questa zona la mandiamo chiaramente in avanzata l'isistata l'abbiamo appena mossa al sud come stiamo andando più uno di crescita attenzione ma sempre crescita e il resto va da sé tutti gli altri chiaramente eserciti ragazzi sono già stanziati e già mossi possiamo reclutare ragazzi giusto qualche altra armata per le nostre flotte ricky oppure spendere i soldi per le costruzioni io adesso valuterei anche possiamo potentare sia una flotta ma anche una città migliorarla sia dal punto di vista degli edifici allora ragazzi quindi diamo un'occhiata con ricky e cosa possiamo fare mentre il nostro generale Omero si trova sempre ad Alalia che finalmente ragazzi sta per scavallare sopra i 5 punti di ordine pubblico quindi ragazzi adesso diamo un'occhiata con ricky dove possiamo costruire soprattutto cosa per il nostro grande impero con 2600 dracmedor ragazzi avrete notato che Milano e tutta la regione Cisalpina da quando abbiamo tolto diciamo il nostro editto è andata a scendere di felicità il motivo è semplice perché abbiamo delle strutture molto potenti come appunto queste caserme che ci permettono di reclutare i picchieri spartani che però abbassano di tanto l'ordine e lo squallore scusate pubblico faremo l'odion ragazzi la musica e la poesia dovrebbero essere accolte in una città civile meno 4 al cibo ma più 10 all'ordine pubblico e ricordiamoci che siamo a 22 di cibo quindi nulla di meglio 5 turni ragazzi e dovremo continuare a salire tutto è stato compiuto vediamo anche un pochino i movimenti che sono accaduti durante il passaggio turno precedente e vediamo anche che i difensori delle colline i boi hanno preferito sostare per recuperarsi dalla grande guerra che stanno affrontando nei nostri territori hanno chiaramente il diritto di farlo mentre tutti gli altri no quindi ragazzi hanno fatto una sorta di asilo politico e vediamo anche che qui la zona è davvero molto molto complessa si trovano in difficoltà addirittura colpiti da una carestia quasi certamente bene ragazzi allora stiamo procedendo davvero col passo di chissà quel che fa anche se la situazione è davvero terribile nei nostri confronti questi fedeli al giuramento sono qualcosa di diabolico ma noi li affronteremo come veri spartani stiamo davvero organizzando anche nuove unità quindi picchieri spartani e anche gli ori di sparta in arrivo prestissimo passaggio turno se c'è qualcosa da vedere lo vedremo se no chiaramente passiamo 147 avanti cristo autunno smeria ancora una volta c'è stato un attacco alla nostra guarnigione davvero ragazzi quei due agenti degli arverni non ci lasciano in pace taxi magula fatta che un sabotaggio militare sempre nei confronti di epiteto quindi fornitura di veleno intrigo politico promozione nei confronti di epiteto stesso bene ragazzi quindi logicamente altre famiglie viene promosso dobbiamo ricordarci che di promuovere i nostri uomini ora che poi lì per conte non c'è più nelle file politiche bosco di linfea segestica creato produttore di anfore e anoreia ne siamo assolutamente contenti abbiamo anche girolamo statista e chiaramente lo schias più 3 trasformazione culturale gli aiutanti aumentano molto bene popolazione indignata in pannonia ragazzi che è appunto la nostra regione qui segestica stessa rapporto del furiere tanti opliti tanti picchieri spartani reclutati agenti in incognito nascosto scoperto taxi magulo intanto ragazzi il tratto acquisito per il nostro generale epiteto stesso e questo deriva chiaramente dalla promozione allora ragazzi torniamo a noi dobbiamo dare un'occhiata davvero seria perché anche io e Ricky non siamo riusciti a vedere bene cosa è successo per quanto qui notiamo subito un deficit grave di ordine pubblico dovuto anche alle razzie dei loro agenti ma non dobbiamo preoccuparci più di tanto ragazzi cosa è successo questo è successo che i loro uomini hanno preferito tornare ancora verso Bibracte che è di fatto la loro capitale della provincia nemica se è aperto un varco ragazzi qui adesso io richi tornerei quasi con la spia non dico indietro ma dobbiamo verificare che qui non ci sia nessuno perché ci metteremo comunque due turni per arrivare in città se non erro anzi no possiamo attaccare di prima però però non abbiamo le baliste quindi comunque sia sarà un attacco davvero molto molto pericoloso il tempismo qui sarà davvero fondamentale forse dal mare riusciremo ad aprirci un varco più veloce ma appunto ragazzi adesso dobbiamo agire una cosa per volta dato ragazzi che le spie ci stanno creando davvero tanti problemi al momento di cercare di eliminare il maledetto Taksimagulo oppure anche Smeria che in realtà è lei che vuole quasi sempre che attacca e fa degli assalti e la guarnigione io ho in base a quello che ha la possibilità più alta dare l'obiettivo esatto uno vale l'altro di fatto per quanto diciamo Taksimagulo ha veleni e Smeria faccia danni nella guarnigione Smeria ragazzi 21% di spada nascosta mentre per quanto concerne Taksimagulo abbiamo la possibilità di raggiungere il 26% dato che Taksimagulo colpisce direttamente i nostri uomini e non la guarnigione io attaccherei proprio questo quindi spada nascosta ragazzi 26% non è tanto qui crediamo tutto alla nostra spia di essere davvero formidabile in questo attacco preciso e letale speriamo bene attenzione nemico ferito se non altro ragazzi non è riuscito ad ammazzarlo ma l'ha levato dai piedi per un po' di tempo quindi comunque un ottimo risultato per la nostra lisistrata non sbaglia quasi mai un colpo davvero molto molto brava seconda cosa da fare Ricky subito da fare passaggio uomini quindi passiamo tutti quanti l'unità del nostro generale nell'altro esercito in modo tale da avere già più uomini al confine perfetto a questo punto possiamo rimandarlo assolutamente a Milano bene ragazzi quindi il nostro epiteto che ha fatto davvero tantissima strada si può ambientare nella sua nuova città Milano e quindi possiamo usarlo come diciamo un traghettatore di unità davvero ben rifornite qui abbiamo già messo insieme un esercito da 20 slot non è ben formato ragazzi ma è meglio di niente quindi gli spartani sono prontissimi a opporsi i nostri uomini quindi sono prontissimi è il momento di selezionare Crisippo e i suoi giganti selezioniamo chiaramente ragazzi Massalia capitale della provincia nemica e via con l'attacco vediamo se lo raggiungiamo direttamente assolutamente sì in mezzo non sembra esserci nessuno quindi attacco diretto ragazzi attacco diretto assolutamente logicamente ragazzi cosa succede non possiamo attaccare senza appunto le baliste abbiamo delle semplici scale sarà molto difficile farsi valere nello stretto ma noi dobbiamo provarci prima però di fare questo manteniamo l'assedio perfetto e attaccheremo anche via mare non possiamo chiaramente permetterci di lasciare degli uomini dietro e avvicineremo quindi anche la nostra flotta ragazzi perfetto quindi marciamo in avanti con la nostra grandissima flotta molto molto bene perfetto a questo punto abbiamo come notate due eserciti per quanto Eumeo abbia pochissimi uomini ma sempre molto molto validi ricordiamoci anche che una buona parte dei nostri avversari è proprio nel porto quindi dovrà assolutamente sbarcare ragazzi noi questa battaglia per quanto sia la vedremo nel prossimo gameplay perché logicamente questo è durato molto ma avete visto quanta gestione c'è dietro il nostro impero spartano e avete visto anche che è il momento di vendicare Poli per Conte tutti quanti siamo pronti e arroganti in questo incedere contro Marsalia se il video vi è piaciuto lasciate un mi piace commentate davvero tanto con tutte le strategie che possiamo attuare se avete notato delle appunto particolarità se avete dei suggerimenti come sempre sapete che io vi ascolto e leggo tutto se avete voglia anche ragazzi mettete un like alla pagina Facebook per rimanere sempre aggiornati con lo Strenus di Baltimora e sapere quando usciranno i prossimi video ma vi posso garantire che il prossimo episodio di Rome uscirà prestissimo perché questa è una battaglia importante è il momento di portare la guerra in casa degli Arverni ragazzi non ci becchiamo come dicevo prima prestissimo e saluto anche il grande Ricky che già si trova con le armi in mano e lo scudo pensando ciao Strenus ciao ragazzi sono già sulle navi pronto a sbarcare dentro la città assolutamente sì ragazzi alla prossima ciao in questa facciata puoi trovare gli ultimi due video che ho fatto e basterà cliccare su di essi per raggiungerli se il video che hai appena visto ti è piaciuto lascia un mi piace lascia un commento e se hai voglia iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato alla prossima